adesso entrano in campo gli ospiti d'onore i ragazzi dell'HP 2000 presenteranno due balli un ballo di cerchio che si chiama out of the corn è un circolo circassiano che si balla in tutto il mondo con musiche diverse e una danza ucraina a terzine che si chiama troica grazie a tutti 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 la performance appena fatta non è niente in confronto alla prossima terzine troica grazie a tutti 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 grazie a tutti